La doccia nera, amore e morte nell'Argentina dei generali, questo è il libro di Paolo Beraldi, ecco Beraldi un romanzo che sì, romanzo d'amore, c'è un filo conduttore ma è un romanzo storico perché insomma alla fine questa storia si dipana nella realtà dell'Argentina in un momento molto difficile per quel paese, così? Certo, è una storia, è un romanzo d'amore quindi c'è la dolcezza dell'amore però in un momento storico talmente duro che è stato considerato uno dei momenti più duri del Novecento in tutto il mondo e naturalmente questo ha influito negativamente sulla storia d'amore, sulla vita dei due personaggi e i personaggi storici che fanno da contorno sono molti, ho dovuto naturalmente fare una lunga ricerca perché non si possono dire sciocchezze su dei personaggi come il Papa Francesco per esempio che era responsabile dei gesuiti all'epoca e quindi non potevo dire cose azzardate insomma ho fatto una lunga ricerca su tutti i personaggi tipo Che Guevara o tipo Fidel Castro che hanno avuto a che fare in vari modi con questo mondo dell'Argentina nell'epoca del colpo di Stato. Ecco e c'è un legame anche con Costa Doneglia, Costa Doneglia sappiamo patria del generale Manuel Bergrano quindi non stupisce che Paolo Beraldi fondatore del circolo Manuel Bergrano scriva sull'Argentina insomma è una storia che avvolge e coinvolge un po' tutti. Sì certo, era quasi inevitabile come giustamente dice Pomati che ci fosse un filo rosso che legasse Paolo Beraldi a Costa Doneglia e all'Argentina e a Manuel Bergrano ovviamente. Manuel Bergrano lo cito appena diciamo così un personaggio collaterale nel romanzo però i due personaggi del romanzo vengono in Europa casualmente, vengono in Italia e seguono le tracce di Belgrano e arrivano fino a Costa Doneglia è un momento così anche molto dolce perché a Costa Doneglia lui decide di chiedere la mano a lei. Insomma un libro da leggere per approfondire anche un periodo storico sicuramente importante non soltanto per l'Argentina ma per tutta l'Europa, in modo particolare poi per noi che abbiamo questo legame con la terra argentina, con Costa Doneglia, che dire, la doccia nera nelle migliori librerie direi. Sì certo, io ringrazio l'editore intanto che ha creduto in me, ha deciso di pubblicare questo romanzo che verrà presentato anche alla fiera del libro, io sarò presente alla presentazione il primo di giugno alle ore 11 in via 20 settembre e credo che il romanzo valga la pena di essere letto insomma anche perché, come dice la filosofia iurvedica, la conoscenza costa, ma la mancanza di conoscenza costa più cara.